Buonasera signori, intervista migliore in campo Riccardo Rossigno dei Keller, partita per la terminata contro la New Team di un punteggio a 3, non so quanto, tipo 9-10-3, molto a meno. Ricchi, cosa hai da dire ai ragazzi che ci stanno ascoltando in questo momento? No, abbiamo dimostrato di essere più forti ancora una volta, ma ci è andato bene, ci mancava la Picano e Pistone, però lo stesso abbiamo vinto. Senta signor Rossigno, diciamo che voi avete una grande immagine nel torneo, i Keller sono la squadra più forte dei tornei, però al torneo 7 contro 7 avete fatto veramente, si può dire schifo, perché speravamo che voi, anzi i pronostici dicevano che voi dovete vincere il torneo, ma in realtà siete arrivati, dico subito la classifica generale, eravate settimi e quindi forse siete salite a quinti o quarti su 9 squadre. Non è un buon risultato, non è bene, diciamo. Le prime partite abbiamo giocato male, poi dovevo visitare, ma abbiamo dimostrato la nostra forza. Oggi è andata bene, oggi è andata bene la partita, ci sono stati brutti episodi a fine partita che non mi sono piaciuti, quindi ci saranno anche dei provvedimenti disciplinari. Però nonostante questo, tu hai giocato benissimo, ti sei comportato bene, hai mantenuto la calma in campo. Riccardo, ci sta qualche ragazza di quel torneo che vorresti salutare, visto che comunque so che tu sei famoso per la... La lunga fila di donne che... No, non stiamo a beautiful qua. Vabbè, ma su Facebook sei famosissimo, ci sono che tirano molti video su di te. No, devo fare una delica al mio amico Carlo Capezzuto, che oggi glielo ho promesso. A chi li segna come sempre? Ghilli, Ghilli è una donna o un uomo? Achille. Achille, 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 è una donna o un uomo? Ma poi, a Luca Rosiello. Luca Rosiello, ok. Comodone, riccardo. Ah, tu amma. Ah, lo complimenti per le foto di quando eri piccolino che sono stupende. Che bellissime. Salutiamo tutta la famiglia Roscigno, Rosiello e un saluto a Marcia. Ciao ragazzi.